Il decreto di Putin. Putin ha recentemente firmato un decreto che consente a tutte le persone che non si identificano nei valori occidentali, ma si identificano nei valori più tradizionali della Russia, se lo desiderano, ovviamente ci sono delle procedure, insomma, però se lo desiderano potranno andare a vivere in Russia perché potranno ottenere il permesso di soggiorno proprio per il fatto che dichiarano di non identificarsi con i valori occidentali. Questo indipendentemente da quale parte del mondo le persone provengano. In effetti, diciamo, se una persona magari è giovane e non si identifica in questi valori dell'Occidente e magari vuole testare com'è la vita in Russia, ora avrà l'opportunità di farlo. Metti un like e con l'abbonamento base, segui tutti i miei seminari. Ciao a tutti!